Benvenuti nel mondo Aquastar. Aquastar è un marchio svizzero di orologi che ha una lunga storia nella produzione di orologi subacquei di alta qualità. Fondata nel 1962 a Ginevra, la società ha guadagnato rapidamente una reputazione come leader nel campo degli orologi da sub, grazie alla sua innovazione tecnologica e al design all'avanguardia. Uno dei tratti distintivi degli orologi Aquastar è la loro capacità di resistere alle immersioni profonde, con una resistenza all'acqua fino a 1000 metri di profondità. Grazie alla loro costruzione robusta e ai materiali di alta qualità, gli orologi Aquastar sono amati dai subacquei professionisti e appassionati di tutto il mondo. Tra le collezioni più famose di Aquastar, troviamo il modello Bentos, un orologio subacqueo con cassa in acciaio inossidabile, movimento al quarzo e una resistenza all'acqua fino a 500 metri. Il modello SeaTime è invece caratterizzato da una cassa in acciaio inossidabile o oro, una resistenza all'acqua fino a 1000 metri e una funzione di cronografo. Gli orologi Aquastar sono famosi per la loro precisione e affidabilità, grazie all'utilizzo di movimenti svizzeri di alta qualità e alla cura nella lavorazione di ogni dettaglio. Ma non sono solo strumenti di precisione, gli orologi Aquastar sono anche esteticamente piacevoli, con un design elegante e raffinato che li rende perfetti per qualsiasi occasione. Gli orologi Aquastar rappresentano l'eccellenza nel campo degli orologi subacquei, con una combinazione unica di stile e funzionalità. Se sei un subacqueo professionista o un appassionato di orologi di alta qualità, non puoi non conoscere e apprezzare gli orologi Aquastar.